Noi andiamo avanti, nulla ci può fermare, siamo una grande compagnia di amici. Bisogna ballare almeno due minuti e bello. Entro io ragazzi, il carboidrato. Se metà di questa energia la mettete nel film, sarebbe una figata. Sarebbe fantastico, invece è tutto molto mosce. È un film francese. C'è un buon inizio. L'inizio di un nuovo modo di vedere. Non c'è il gigante. No. Dottore, noi abbiamo il diritto di sapere che cosa sta succedendo. Ho 49 anni, faccio lo psicanalista. E sono depresso. Oh, da su, e a lontano! Tagliati giù le mani e ti butto di sotto. Quando quello che fai... Che facciamo? Lo spogliamo il portone? Dottore, se potessi abbassare l'acqua. Sì, che le cose siano così evidenti. Ricordi quando facciamo la commedia. Molta emozione, ma c'è anche molta amicizia. Quando pensi non hai voce perché hai parlato troppo Sei convinto di non avere lacrime Che hai già pianto troppo Sorrida, è una commenta. Troppo poco Hai pianto troppo Troppo poco Se troppo poco Si troppo poco Se troppo poco Grazie a tutti.